Nuovi clienti non arrivano per un colpo di fortuna, quasi mai, e quasi mai arrivano perché cerchiamo di lavorare di più facendo la stessa cosa che abbiamo sempre fatto. La chiave è sviluppare e allenare alcune abilità che sono davvero essenziali per comunicare quello che è il tuo messaggio, la tua offerta in modo autentico ed anche efficace, ignorando tutte le altre scintillanti vanity metrics che inseguono la maggior parte delle persone perché sono una vera e propria tentazione ma che non portano a nulla e migliorare il modo di scrivere alla tua audience è senza ombra di dubbio a mani basse una di queste abilità. Ecco perché in questa puntata di Impact Girl approfondiamo qualche nuovo spunto pratico per migliorare il tuo copy, il tuo copywriting in appena 10 minuti. Prima però ti ricordo che fra qualche giorno avrà inizio il primo workshop di copywriting interattivo dedicato a come scrivere la tua pagina di vendita in modo autentico ed efficace così che promuovere la tua offerta non ti faccia mai più sentire a disagio e soprattutto in modo tale che funzioni finalmente. Sarà un copy, sarà un copy workshop, un workshop dedicato al copy di circa tre ore, sarà live e naturalmente il replay sarà incluso quindi non ti preoccupare se non potrai esserci per problemi dell'ultimo minuto. Ti ricordo che per prenotare il tuo posto puoi cliccare sul link che trovi nella mia bio su Instagram oppure puoi cliccare se stai guardando questo video da YouTube sul link che trovi nella descrizione del video oppure se stai guardando questo video dal sito beats-academy.it troverai i link dappertutto sul sito anche sotto questa puntata. Se stai ascoltando questa puntata da Spotify, Spreaker, iTunes o qualunque sia la tua piattaforma podcast preferita porta le tue dolci chiappette sul sito beats-academy.it per trovare il link e iscriverti al workshop. Quelli che vediamo oggi sono spunti che puoi applicare a qualunque copy tu faccia quindi le tue mail, le tue landing page, qualunque cosa tu stia scrivendo per farti conoscere alla tua audience. Il primo spunto pratico consiste nel fare molta attenzione alle parole che scegli di utilizzare, agli scenari che decidi di descrivere quando sviluppi il tuo copy. Perché? Perché quelle parole, quegli scenari andranno ad attrarre un certo tipo di pubblico, il pubblico che più si sente in grado di identificarsi con quelle parole, con quegli scenari. Ti faccio un esempio per farti capire quanto questo è importante. Quando la membership di beats-academy è nata qualche anno fa, avevo ancora l'idea abbastanza confuse su qual era, diciamo così, la mia audience ideale, quella a cui davvero volevo rivolgere la membership di beats-academy. E questa confusione si notava anche nella pagina di vendita. Tanto che nella prima parte della pagina di vendita il copy diceva qualcosa come parlava insomma dell'importanza di validare la propria idea, della frustrazione di sentirsi dire da parte di chi non crede in noi quanto la nostra idea sia bizzarra e quanto non funzionerà mai. Quindi chiaramente si rivolgeva ad un pubblico che aveva soltanto un'idea in mente. Poi però la seconda parte della pagina di beats-academy, invece sottolineava che era importante per riuscire a mettere in atto tutte le strategie proposte e avere un business già avviato, avere un ecosistema già strutturato. Ora è chiaro che questi due aspetti andavano in contraddizione e parlavano a due audience completamente diverse. E naturalmente quando la mia audience ideale o presunta tale arrivava sulla pagina non poteva che sentirsi confusa. Perché? Perché in primis ero confusa io, non ero affatto certa di quale fosse il pubblico a cui avevo deciso di rivolgermi o meglio non avevo ancora deciso a quale pubblico effettivamente volevo rivolgermi. E quindi è estremamente importante non cadere in queste contraddizioni. E tra l'altro quando scrissi quella pagina ero convinta di aver fatto un capolavoro, perché ero talmente dentro il vortice del mio progetto che non ero nemmeno riuscita a prendere le distanze ed è stato qualcuno che poi mi ha aiutato a notare che c'erano effettivamente delle contraddizioni. Queste contraddizioni denotavano una confusione a monte che andava assolutamente chiarita se volevo che quel progetto avesse successo. Quindi per riuscire a selezionare le tue parole in modo chiaro, in modo giusto, nel modo più strategico, nel modo più sensato ed efficace, devi assolutamente aver chiaro in mente qual è il tuo lettore ideale, a chi ti stai rivolgendo e puoi rivolgerti soltanto a lui. Poi non è detto anzi sicuramente ti rivolgerai indirettamente anche ad altri. Quindi che cosa succede? La membership di Pizza Academy è oggi ufficialmente una membership dedicata a chi ha già un business avviato, ma ci sono un sacco di imprenditrici che arrivano anche quando hanno soltanto un'idea nella loro testa che non è ancora, non si è ancora concretizzata. Quindi non è che il fatto di come dire delineare in maniera più chiara ed efficace il mio copy mi ha impedito di raggiungere un pubblico più ampio, ma mi ha permesso però di andare ad intercettare soprattutto l'audience che avevo deciso era l'audience ideale per questo progetto. Quindi come fare a trovare intercettare questa audience? Beh innanzitutto dobbiamo capire qual è il problema che risolve il nostro la nostra offerta, il nostro prodotto, il nostro servizio, il nostro pacchetto, perché in base a quel problema capiremo anche qual è l'audience di riferimento, chi è il gruppo di persone che deve voler risolvere un certo problema di questo tipo. Per capire quali parole questa audience utilizza per esprimere questa frustrazione nei confronti del problema, per condividere i propri desideri e il desiderio di risolvere un certo tipo di problema, un certo tipo di sfida, vai a cercare questa persona ad esempio nei gruppi facebook di nicchia, quelli ovviamente relativi alla tua nicchia. Prova a capire, a leggere i commenti, leggere le domande, che domande vengono condivise, quali parole vengono utilizzate. Magari il tuo utente ideale non dirà mai voglio perdere peso, però potrebbe dire non vedo l'ora di potermi rimettere quei jeans che sono nell'armadio da due anni e mezzo ormai. Ecco, fai attenzione a queste parole. Il secondo spunto pratico di oggi è quello di rispettare e assolutamente abbracciare la tua personalità. Magari sei una tipa particolarmente introversa, magari sei una tipa molto riassuntiva e concisa, magari sei una tipa un pochino più lunga che tende a voler parlare più a lungo per descrivere un certo tipo di cosa, magari utilizzi dei termini che possono apparire quasi bizzarri, simpatici, persino sciocchi. Qualunque sia la tua personalità nella vita quotidiana, abbracciala anche nel tuo copy. A volte succede che vediamo quello che fanno i nostri competitors, vediamo che funziona per loro, sembra funzionare per loro e quindi cominciamo a fare un copy in colla di espressioni che non ci appartengono. Ecco, probabilmente non apparterranno neanche alla nostra audience di riferimento o meglio, se la nostra audience di riferimento comincia a conoscerci probabilmente noterà delle contraddizioni e le sembrerà strano leggere alcune espressioni se tu le inserisci nel tuo copy senza che in realtà ti appartengano realmente. Ecco, per capire se stai scivolando in questa buccia di banana, prova a leggere il tuo copy a voce alta, è veramente così semplice. Se effettivamente leggendo la voce alta ti suona naturale, esattamente come ti uscirebbe dalle labbra mentre parli ad un'amica, allora va benissimo, altrimenti se suona un pochino fuori tono, un pochino se ti senti a disagio mentre effettivamente ne parli a voce alta, allora è il momento di cambiarlo e ritornare in carreggiata per abbracciare quella che è davvero la tua personalità e il tuo tono voice. Terzo e ultimo spunto di oggi è chiarisci al lettore, quindi a chi sta dall'altra parte, a chi leggerà la tua newsletter, a chi leggerà la tua pagina di vendita, a chi leggerà la tua landing page, a chi leggerà il tuo blog post, che cosa deve fare una volta finito di leggere. Ogni pagina soprattutto se è una landing page, quindi una pagina di atterraggio con uno scopo ben preciso che possa, che potrebbe essere l'iscrizione o l'acquisto al tuo sito, deve avere una chiamata all'azione precisa, possibilmente unica se non unica principale, quindi una chiamata all'azione che sia ben in evidenza. Uno degli errori più comuni che vedo è creare delle landing page, delle pagine di vendita, addirittura con molteplici pacchetti che propongono vari prodotti, vari servizi, varie offerte e poi inevitabilmente creano la paralisi da indecisione, perché più opzioni ho tra cui scegliere, soprattutto se sono completamente diverse tra loro, più naturalmente ad un certo punto mi blocco e dico sai che c'è, magari scelgo un altro giorno e poi quel giorno non arriverà mai. Quindi scegli una call to action che sia una chiamata all'azione che sia una ed una soltanto. Ci sarebbero altri spunti che potrei condividere con te oggi, potrei andare avanti fino a fine anno, ma visto che sta per arrivare il copy workshop, mancano letteralmente pochissimi giorni, ti invito a prenotare il tuo posto. Sarà un workshop interattivo di copywriting come non l'hai mai vissuto prima. Non solo imparerai a scrivere la tua pagina di vendita nel giro di un giorno soltanto, perché ti insegnerò un modello che utilizzo ormai da anni per scrivere tutte le nostre pagine di vendita e naturalmente condividerò con te la versione in assoluto più aggiornata, quella che ad oggi ha funzionato meglio di tutte, ma avrai anche a disposizione un template replicabile su Canva in maniera tale da poter riadattare la struttura della tua pagina e consegnarla al tuo programmatore oppure al tuo designer perché la riadatti allo stile del tuo sito e la possa pubblicare già fatta. Insomma, promuovere e condividere la tua offerta senza più sentirti a disagio e soprattutto vedendo i risultati che desideri, ossia cominciando a vedere i clienti che arrivano, non sarà più impossibile, non sarà più un sogno, ma sarà realtà e sarà realizzabile nel giro di 180 minuti la durata del Copy Workshop. Trovi tutti i riferimenti nel sito bezz-academy.it, in cima al sito troverai una barra che parla proprio del Copy Workshop, cliccaci sopra e poi prenota il tuo posto dalla pagina che ti si aprirà. Trovi anche il link al Copy Workshop nella bio del mio profilo Instagram e nel profilo Instagram di Impact Girl Tribe che è il profilo Instagram di Bezz Academy. Io ti aspetto al Copy Workshop, ti aspetto in aula virtuale e come sempre lascia il mio commento qui sotto se questa puntata ti è stata utile. Un bacio! Questo è tutto per la puntata di oggi, spero di averti dato qualche utile spunto che potrai implementare sin da subito. Se crescere un business in cui credi sul web in modo autentico e proficuo è parte dei tuoi piani e non sei ancora entrata a Bezz Academy, puoi farlo visitando il sito bezz-academy.it. Noi come sempre ci sentiamo o vediamo alla prossima puntata di IMPACT GIRL!